ciao raga benvenuti o bentornati nel canale in questo nuovo video che inizia con una ricca colazione allora praticamente questo è il residuo della torta di domenica dato che hanno fatto parecchi dolci questo l'ho fatto io il pan di stelle poi la z di gialluca mi portò due tre dolci sono rimasti veramente per giorni e a me dispiace buttare non sono per lo spreco e quindi non si spreca nulla ma la mattina me lo sto mettendo nel latte e quindi veramente una ricca colazione come si 8 dicembre e quindi è il giorno dell'immacolata ho deciso di aprire insieme a voi il mio calendario dell'avvento infatti ecco qui in casella numero 8 non so se ve lo ricordate se tutti l'hanno visto nel mio scorso video questo è un calendario dell'avvento artigianale che mi è stato regalato dalla mia amica il tuo calendario dell'avvento ok vieni qua mamma vieni oggi 8 vai ce la fai da solo ti aiuto vai eccolo qua cos'è uscito un cioccolatino e dopo aver fatto aprire il calendario dell'avvento anche a gabriele lui ha avuto quello lì della chite catti e l'ha comprato il nonno mio padre vado a togliermi un pochino di cose di mezzo perché dobbiamo comunque uscire quindi oggi vado a fare veramente raga vi giuro questa volta l'indispensabile saremo fuori a pranzo da mia suocera e poi andremo un po in giro al centro commerciale per i negozi al centro commerciale c'era un evento con gli elfi che davano ai bambini lo zucchero filato ai palloncini e quindi andremo lì e veramente raga voglio fare l'indispensabile quindi inizio con il togliere le cose di mezzo della colazione mi vado a riempire la lavastoviglie con quello che c'era della scena di ieri perché io non sempre sono monella lo so ma non sempre la sera ho voglia di posare le cose quindi spesso e volentieri le lascio nel lavandino e l'indomani poi me le carico in lavastoviglie oppure le lavo a mano insomma come sto d'umore e raga siamo esseri umani e oltre ad essere mamme siamo donne non siamo robot e quindi ci può stare ci possono stare queste giornate così che non sempre la sera si ha voglia anche perché soprattutto quando ci sono bambini ma anche quando non ci sono bambini a volte ci si arriva talmente stanchi che si ha solo voglia di mettersi un po' sul divano a rilassarsi ecco qua e come avete visto raga ho intenzione di non velocizzare il video perché vi voglio far vedere proprio realmente il tempo che impiego quando devo uscire e quando vado a fare diciamo le cose indispensabili appunto ecco ora sono passata ad asciugare queste cose che ho lasciato sempre dalla sera prima e qualcosina l'avevo fatta a mano magari mentre cucinavo e l'ho lasciato lì a scurre sempre per la stessa cioè lo stesso ragionamento e quindi mi vado ad asciugare le cose poi me le vado a posare giusto per lasciare diciamo non troppo casino visivo e di modo anche che quando torno alla sera che sicuramente si farà tardi noi rientreremo sicuramente intorno alle 21 quest'orario qui non ho proprio quell'impatto della casa in disordine ecco qua ciao raga ho fatto tutto velocemente qui questo lo lascio così a scorrere vi volevo far vedere il mio nuovo acquisto vedete com'è carino ho pagato pochissimo in supermercato questo devo ancora capire dove voglio metterlo per il momento lo mettiamo qua e passo al soggiorno mi dedico al soggiorno vado anche qui a fare l'indispensabile vabbè quindi vado a rifare il divano vedete mi aggiusto il divano le cose che ci sono su e poi andrò semplicemente a passare la Dyson questa volta non vado né a lavare né a passare la Tinico perché poi comunque rimane un pochino bagnato quando passi la Tinico e quindi poi devo aspettare che si asciughi e non ho tempo e non ho voglia vabbè in casa sta anche pulito comunque io diciamo che quando so che il giorno dopo devo uscire cerco di anticiparmi qualcosa anche il giorno prima quindi magari i pavimenti li lavo il giorno prima in modo che l'indomani posso passare solo la Dyson solo l'aspirapolvere diciamo io mi organizzo così fatemi sapere nei commenti se anche voi vi organizzate così oppure se magari non ve ne frega un cavolo praticamente passatemi il termine e lasciate tutto così oppure se fate di tutto e di più prima di uscire perché volete lasciare la casa super pulita insomma fatemi sapere un pochino quello che voi fate quando dovete uscire sono curiosa e nel frattempo sono passata alla camera da letto qui andrò solo a rifare il letto raga non vado neanche a spolverare perché comunque io spolvero tutti i giorni e vabbè lo faccio soprattutto in camera da letto perché comunque in camera da letto andiamo a dormire quindi non voglio che diciamo respiriamo polvere poi comunque vi devo dire la verità con i mobili bianchi non sono neanche cioè non mi aiutano i mobili bianchi perché la polvere vi giuro che subito si vede sul mobile bianco non lo so forse anche su quello nero però io ho notato questa cosa per esempio a casa di mamma o anche di mia suocera con i mobili marroni diciamo si notava di meno invece sul mobile bianco è una cosa cioè diventa nero praticamente e quindi però comunque essendo che come ho detto lo faccio tutti i giorni oggi non lo andrò a fare e vado solo come ho detto a rifare il letto a piegare i pigiami vabbè a posare tutto quello che c'è di mezzo vedete anche queste cosettine qui che ieri sera ho tolto da fuori che si erano asciugate me le vado a posare giusto perché come dicevo è una questione di ordine visivo non mi piace entrare e vedere tutto il casino perché mi abbilisco e quindi cerco di togliere più cose possibile di mezzo anche il letto vedete che vado a farlo molto velocemente in che senso allora io ho la fissazione perché è una fissa di smontarlo e rimontarlo in che senso vado a togliere tutto piumoni lenzuola vado a sbatterli ci vado a mettere un po' di deodorante quello che creo io con l'acqua e l'ammorbidente e poi è come se andassi a rifare il letto invece oggi non vado a fare questo passaggio questo procedimento ma vado solo a sbatterle un pochino così senza smontare e vedete e quindi anche su questo diciamo risparmio tempo sono curiosa anche di questo fatemi sapere nei commenti se voi il letto lo smontate e lo rimontate sempre tra virgolette oppure se comunque andate solo a tirarvi le lenzuola e a farlo così velocemente io non non mi ci trovo proprio perché ho questa fissa appunto l'ho sempre detto nei video credo che l'ho già detto ma ho questa fissazione vabbè ognuno ha le proprie fisse raga ed eccomi qua vado di Dyson come vi ho detto vado a passare la Dyson velocemente la passo in camera da letto e anche nel soggiorno perché comunque è lì che diciamo si fanno più bricio le polvere eccetera eccetera ma nel frattempo mi vedete cambiata perché comunque per recuperare tempo diciamo nel frangente mi sono lavata e vestita e ho lavato e vestito anche Gabri è prestissimo non so se riuscite a vedere dall'orologio che ho alle spalle sono le undici e un quarto ed ho già quasi finito diciamo perché mi resta solo da fare il bagno e poi possiamo uscire vedete vi sto facendo vedere proprio in tempo reale raga quello che comunque vado a fare è il tempo che impiego nel farlo comunque diciamo che veramente in questi casi riesco a pulirmi casa più o meno in in dieci minuti dieci minuti no ma quindici minuti sì perché veramente vado a fare l'indispensabile se vi fate il calcolo diciamo tra gli spezzoni di di video in cui mi sono fermati ho parlato comunque sì più o meno ho impiegato quindici minuti eccomi qua vado a fare il bagno e come avete visto utilizzo l'alcol perché l'alcol diciamo non fa tanta schiuma e quindi sì risciacquo però non ci impiego troppo tempo nel farlo vabbè esistono anche diciamo dei prodotti appositamente cioè tipo quelli i detersivi senza risciacquo però io non ne ho perché in genere non non ne uso e oggi sono andata appunto con con l'alcol che comunque disinfetta e ti fa pulire tutto velocemente diciamo diciamo che l'alcol secondo me è un po' come la candeggina disinfetta e ce l'hai sempre in casa perché comunque tutti quanti abbiamo sempre alcol in casa e quindi se ti mancano detersivi puoi utilizzarlo un po' per tutto e infatti io ho già fatto un video in cui vi mostravo come pulire casa tutta casa con un solo prodotto che è la candeggina e ho pensato di farne un altro appunto con con l'alcol quindi pulire tutta casa con un solo prodotto ovvero l'alcol fatemi sapere nei commenti se è un video che vi può piacere se vi è piaciuto l'altro che ho fatto così magari il prossimo video sarà proprio questo qui e non so se avete fatto caso a Gabriele al suo maione natalizio anche io sono in mood natalizio ho il maioncino rosso e vi ho detto che io dal primo dicembre amo indossare ogni giorno almeno un pezzo un capo rosso fino al giorno di Natale ma alla fine anche a Capodanno mi piace farlo e non lo so sono tradizionalista mi piace tanto il rosso di questo periodo sempre lo faccio e niente abbiamo finito anche il bagno vado a passare alla Dyson raga e ho terminato tutte le mie pulizie super veloci anche se come avete visto anche se sono andata velocemente sono andata a fare un po' di tutto e non c'è cosa più bella di tornare a casa e trovare tutto in ordine allora raga siamo appena tornati siamo stati un pochettino in giro essendo che Gabriele non è andata a scuola Gianluca ha fatto mezza giornata e vi voglio far vedere solo una cosa perché mi è arrivato il regalo di compleanno da parte di mio marito perché non so se ci avete fatto caso nei regali non c'era ma il mio regalo no il regalo di papi ma me l'ha fatto però doveva arrivare insomma la dovevo scegliere ve la faccio vedere subito aspetta Gabri ho scelto una borsa che è questa qua ve la faccio vedere aspetta Gabri aspetta facciamo io vedere la borsa della Valentino scatta la carta scatta la carta stiamo facendo infatti facciamo un po' di carta sapete quanto è bella qui davanti qui ha la B di Valentino poi alla cerniera aspetta un po' facciamogliela vedere meglio vedete qua alla cerniera porta la tracolla che non è questa ah qui porta praticamente anche questa borsa qui questa io queste che di solito le uso per la spesa me le metto in borsa porta la sua tracolla niente va bene Gabri aspetta ma questa è la tracolla si la tracolla qua ora ci sono tutte le le carte eccola qua però praticamente è lei si può portare sia così che con la tracolla che ora apriamo sposta la testolina mamma ecco qua ecco qua ci sono ci sono ce la posso fare ecco qua ecco qua mettiamo qua allora io praticamente cercavo una borsa non troppo grande neanche troppo piccola che si mette a tracollo ed è lei vedete qua così mi piace molto molto e poi la volevo di un colore neutro quindi c'era anche nera nera anche era bella devo essere sincera però l'ho voluta un colore neutro quindi l'ho scelta col beige togliamo anche questi così la vedete proprio bene bene no ci vogliono le forbici vabbè comunque aspetta Gabby facciamo vedere la borsa mi devo alzare eccola qua guardate che bella a me piace tantissimo tantissimo e niente raga vabbè questo era tutto il video quindi io vi saluto vi mando un forte bacio spero che il video vi sia piaciuto e vi abbiate venuto compagnia mando un bacio anche tu Gabby ci vediamo al prossimo video raga grazie a tutti